Elio andiamo troppo ad agio quando facciamo gli allenamenti Elio e io facciamo i 28 adesso qui 22 23 mi tocca continuare a frenare l'ho montata io 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 consiglio però di non rimanere da soli è meglio essere in gruppettino guardate che c'è una bici che vuole passare prego prego l'ho montata l'ho montata io l'ho montata io l'ho mi piace con il nome l'ho montata io l'ho montata io l'ho montata io l'ho montata io Grazie a tutti 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 Grazie a tutti